Terra Amara, anticipazioni seconda stagione, ferisce erroneamente il suo padrino. La sop opera turca Terra Amara, giunta alla sua seconda stagione di messa in onda in Italia nel pomeriggio su Canale 5. Continua a riservare molte sorprese. I nuovi episodi saranno movimentati dal ferimento di Ali Ramet Fekeli, Keremalk, che rischierà di morire per mano del suo figlioccio Yilmaz Akkaya, Uyur Regune. Quest'ultimo sparerà per errori al suo padrino, il quale si metterà in mezzo proprio mentre lui starà per premere il grilletto contro un Keremann, Vaide Persin. La vera responsabile della rottura tra lui e la sua ex fidanzata dall'amata Zuley Alton, Ilal Altmbilek. Tutto comincerà quando Yilmaz Grazia Cetin Cerci, a Rasenol, metterà le mani su un pezzo di una lettera scritta da Zuley a per lui e bruciata dalla domestica Gulten, Selingens. Akkaya verrà a conoscenza che la sua ex fidanzata si è sposata con Demir perché in realtà Unkar aveva minacciato di farlo condannare a morte. A questo punto Yilmaz desidererà avere un confronto con Zuley, pur essendo appena convolato a nozze con la dottoressa Muigan, Melike Pekialova. Quindi Akkaya si recherà a Istanbul con la certezza di trovare la sua ex, quando verrà a conoscenza che il suo rivale in amore si è nascosto nella capitale turca con la moglie e la madre dopo aver distrutto la casa della cugina Sermin, Sibel Tazolu, con un incendio. Per poter partire Yilmaz dirà una menzogna a Muigan, ovvero di non poter mancare al funerale di un amico deceduto all'improvviso. Intanto Unkar chiederà a Sanilie, Seling e Ninci, di farle credere tramite una telefonata che sua madre a Zidze, Serpil Tamur, abbia la febbre, il piano della Dark Lady andrà nel migliore dei modi. Visto che Demir darà subito il suo consenso per tornare a casa alla madre. A questo punto Yilmaz, appena Cetigli dirà che gli Aman sono di ritorno, si recherà alla vila per dare inizio alla propria vendetta. L'uomo vorrà sequestrare e uccidere Unkar, a cui punterà contro la sua pistola. Ma proprio quando starà per partire un colpo ci sarà l'improvviso intervento di Fekili che cercherà di disarmarlo. Per errore sarà proprio quest'ultimo a rimanere ferito gravemente, venendo colpito da una pallottola nel basso ventre, il padrino di Yilmaz verrà ricoverato subito in ospedale. Grazie a tutti.